ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video e via ci siamo da un'altra puntatella dedicata ai vostri simpatici video agli orologi no le vostre collezioni siamo tutti contenti quando le guardiamo perché ci sono orologi nuovi da guardare è tutto lì a noi ci piace noi plurale maiestatis ci piace guardare gli orologini degli altri un po voglieristica come rubrica però finché ci limitiamo agli orologi no poi dopo magari degenererà un giorno non si sa si spera anche magari no di vedere qualcos'altro però per adesso ci accontentiamo degli orologi anche perché la mia scimmia è così e vuole vedere gli orologi per ora poi se cambia idea mi adatterò ora detto questo vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo rolex yacht master 40 mm calibro 32 35 quadrante blu soleil con la sfera dei secondi rossa che tanto spicca su questo simpatico quadrante e non dimentichiamoci la ghiera in titanio e platino scusate titanio titania il platino e platino e roba da ora in queste in queste settimane sono quattro gli orologi che sto indossando rotazione che mi danno tanta tanta soddisfazione per un motivo diverso uno dall'altro e anche livelli di prezzo veramente differente però mi danno tutti soddisfazione uno è questo che mi dà soddisfazione l'altro del cartier santos che indosso spesso e volentieri il longini hydro conquest nuovo il nuovo del 2014 con ghiera rossa anche quello lì mi piace un casino e poi il mio longinetto del 73 vintage no con il suo bracciale integrato che è tutto smollencico come direbbe no vabbè quattro orologi quattro fasce di prezzo quattro tipologie che io indosso che con piacere non vedo l'ora di mettermi no adesso mi metto questo no adesso questo adesso vado la mi e poi mi piace anche che mi piacerebbe che qualcuno magari indosso il longin del 73 che qualcuno mi fermasse mi chiedesse ma che orologio è no bra e sparò fuori tutta la storia dell'orologio no invece non succede però vado sempre in giro così per il modo che qualcuno mi chieda ma non accade va bene detto questo i discorsi inutili lasciano il tempo che trova quindi che trovano e quindi passiamo al primo video speriamo un po di vedere qualche orologio decente oggi decente ho detto fuoco ciao davide sono alessio dopo aver visto il video del mio amico nicolò non potevo tirarmi indietro da mandarti anch'io la mia collezione che per il momento è composta per lo più da lasciti in quali ho deciso di restaurare e rendere marcianti prima di acquistare del nuovo ma questo qua è un aereo in atterraggio sulla pista di un aeroporto quindi c'è qualcosa a che fare con il volo se è un pilota è una ripresa anche amatoriale questa va bene quindi hai detto che sono tutti lasciti che hai cercato di rimettere a nuovo se non ho capito male perché ero confuso dalla pista come disse l'appo mi hai visto tutti i orologi meritevoli di essere riportati al loro splendore cominciare ti mostro l'orologio a batteria che uso al lavoro è un cronografo a batteria satellitare montato su di un boeing 737 800 riceve energia dalla batteria dell'aeroplano e l'orario dal sistema gps come la quasi totalità dei sistemi presenti su di un aeroplano anche l'orologio è ridondante ne sono presenti due uno per il comandante e uno per il primo ufficiale entrambi indipendenti e collegati ognuno a un sistema gps differente lo usiamo quotidianamente per calcolare lo stimato di partenza l'entità di un eventuale ritardo cronometrare l'accensione dei motori oppure il bilanciamento del carburante nei serbatori o in casi di emergenza ancora oggi come cento anni fa l'orologio a bordo di un aeroplano è fondamentale e obbligatorio secondo quanto è scritto infatti dalle autorità aeronautica è obbligatorio avrò a bordo di un aeromobile un timepiece ovvero un qualsiasi strumento meccanico digitale in grado di tenere il tempo passiamo ora alla collezione con questo Breitling Colt del 2009 regalo per la cresima con questo orologio la scena sulla spalla ha iniziato a muovere i suoi primi passi è un diver 500 metri automatico con ghiere unidirezionale coronabite la cassa è da 41 mm e 12.4 di spessore in acciaio con vetro zaffero il momento è un Breitling 17 ovvero un ETA 2824 2 automatico con 42 ore di riserva di carica e dataria ma non hai detto che insomma c'è scritto cronometer non è specificato che è un ETA 2824 ma è certificato COSC perché Breitling da che mondo è mondo sono tutti certificati COSC anche quarsi chiaramente per i quarsi esistono dei parametri differenti di certificazione molto più restringenti differenti nel senso anche di temperature pressione tutto posizione la posizione non lo so lo faranno anche interessante questa vengono testate su differenti posizioni quarsi io credo di no a meno che non ci siano delle ruote all'interno che possono risentire anche della forza di gravità messa in un punto nell'altro però va bene comunque sappiate che i quarsi COSC esistono però cambiano i parametri non ho mai studiato quali sono i parametri perché non sono abbastanza interessato all'argomento L'orologio era più usato fino ad oggi e dopo 15 anni di servizio presenta i segni del tempo ma appunto prossimamente riportarlo come nuovo con una lucidatura Bravo! Passiamo ora a questo Breitling degli anni 60 uno dei classici orologi trovati nel cassetto del nonno che ho deciso di fare restaurare da dei ragazzi orologiai qua a Roma che possegono un laboratorio che tra l'altro notato hai citato anche tu in qualche tuo video e confermo che lavorano a un livello di qualità veramente alto Il calibro è un Fels a peso 330 meccanico a carica manuale con riserva di carica di 42 ore Bello! Pulito! La Fels è un'azienda svizzera di calibri che forniva diverse case come Vacheron, Omega, Polpicò, Breitling e diverse altre Il quadrante rispetta gli stilemi del DSW elegante gli indici e le sfere a bastone sono entrambi molto sottili e in oro A perturbare l'eleganza vi è solo la piccola sfera dei secondi a ore 6 La cassa è in oro, 18 carati, estremamente sottile, solo 6 mm, come anche le anze Il vetro è in plexi leggermente bombato, il fondello è chiuso e senza particolari incisioni a differenza della corona che presenta la scritta Breitling A mio avviso è un orologio che testimonia come una casa prettamente sportiva di tool watch per piloti abbia avuto in passato nel suo catalogo anche una parentesi di eleganza classica Sì, ma infatti è la domanda che mi sono posto anche io Te hai detto che l'hai portato a restaurare, quindi in un laboratorio serio quindi loro una volta che l'hanno avuto per le mani avranno saputo dire Ah sì, tutto a posto, va bene A questo punto sono io che ho solamente le dubbi Non ho mai visto un Breitling fatto così famosa per i cronografi, va bene Per gli orologi sportivi va bene, un orologio così dress watch non l'ho mai visto Però c'è sta tutto nella vita, no? Poi l'ha portato a restaurare, quindi sicuramente è tutto a posto, però Passiamo ora a questo Longin che ritengo essere più prezioso della collezione in quanto regalo di mia madre a mio nonno per i suoi 80 anni Addirittura Ricordo infatti perfettamente di mio nonno con questo orologio al polso tutti i giorni Indubbiamente ora, indossando, lo ricordo, va sempre a lui Questo orologio del 2006 monta un movimento cronografico automatico Longin L678 Ovvero una modifica alla Valjoux 7751 Che possiede un contatore secondi a ore 9 Un contatore 30 minuti cronografici a ore 12 Un contatore delle 12 ore cronografiche a ore 6 E in più un calendario completo Un datario situato sulla circonferenza esterna Le fasi luna e un contatore 24 ore a ore 9 Ora mi sovviene che questo qua è lo stesso calibro che ho visto recentemente Nell'Omega Speedmaster Automatic Triple Date Quello che aveva il buon Giacomo in negozio da vendere come usato Praticamente era questo Non ricordo se aveva le fasi lunari ma poco importa È un modulo in più da aggiungere Comunque la configurazione è questa Lo stesso ETA 7750 di base modificato Degli accenti di Luminova premettono la lettura dell'ora anche al buio La linea della cassa è molto semplice Lucida e con poche lavorazioni Quanto basta per adorcire gli spigoli e ammorbidire le linee In caso di orologio scarico Riserva di carica di 42 ore Il settaggio dell'ora, del giorno e del mese non è affatto immediato Diversi minuti e numererevole giri di corona Saranno necessari per far quadrare il tutto Passiamo ora a questo longino Ultronic Un cassetto del nonno non funzionante Che ho deciso di fare restaurare E che presentava una linguetta rotta La quale mi ha costato molti soldi e molto tempo Eccolo qua, di appasso Per poterlo far tornare funzionante Fammelo vedere un pochino da fermo così Longin 6312 Ossia il calibro ESA Realizzato da ESA, dal consorzio Che poi hanno utilizzato anche altre case Eterna, Zenit, una marea di case Quasi tutte le case svizzere Utilizzavano l'ESA 911 162 si chiama Bello assai La batteria lì La batteria Ecco l'ho già batteria Ma non è al quarto Perché ha il diapason Ha i due Vedete le due bobine lassù Ha il diapason E costato tanto ripararlo Infatti ce n'ho uno C'ho un longino Anch'io Ultronic E non ne prendo più Non ne prendo altri Nel senso che Nella collezione Se mi dovesse capitare Di trovare un altro Ultronic Magari bello Fatto bene con una cassa particolare Non lo prendo Non lo prendo Perché ce n'ho già uno E già con uno Rischio no In caso di malfunzionamento Dove lo porto Quanto mi costa ripararlo Quindi Aumentando il numero Di Ultronic In collezione Aumentano le probabilità Solo matematica Le probabilità Che qualcosa Che cosa possa succedere Quindi uno Lo tengo lì Fermo Bravo Che tra l'altro L'ho preso in host Proprio L'ho trovato Un follower Che ha preso in mano La gioielleria Del padre Ha aperto tutti i cassetti Che c'erano dentro C'era sto Ultronic Qua E l'ho preso da lui Me l'ha fatto vedere In privato Pum Prendo io Col bracciale originale Perfetto Effettuare questo restauro E' un orologio Degli anni 70 Con calibro al diapason Esa 9162 Rinomenato poi da Longin 6312 Con datario Aure 3 Il quadrante è chiaro Ed ha una grande Tridimensionalità Data dagli indici In rilievo Che sembrano quasi Incastonare il quadrante La placatura che se ne va Le sfere sono a matita Nere e con accento Illuminova Circondate da una placatura In oro Che viene poi ripresa Anche dal datario Aure 3 E la forma particolare La placatura E le grandi dimensioni Lo rendono un orologio Un po' complicato Da indossare La corona è anch'essa Placcata in oro Originale Con la dicitura Longin incisa Per far tornare Funzionante questo orologio Ci sono voluti Un bel po' Di soldini Ma a mio avviso Li avassi tutti In quanto Un orologio unico Che rappresenta Lo stile E le innovazioni Degli anni 70 Passiamo a questo Hebel 1911 Che bello Un orologio elegante Con cassa in acciaio e oro Dal diametro di 36 mm Che bellino questo In movimento Un Hebel Calibro 93 Automatico Con datario re 3 Ovvero Una derivazione Del Federico Piquet 951 Un calibro usato da case Come Audemars Piquet E Blanc Pen Che bello La cassa è in acciaio e oro 18 carati Dal diametro di 36 mm E dallo spessore Esiguo di soli 6 Le linee molto morbide E il diametro contenuto Lo rendono un orologio Che non vedrai male Neanche su di un polso femminile Ah sì La lunetta E le viti esposte Stile Breitling Sono in oro Che bello acciaio satinato Impreziosiscono l'orologio E rendono unico Il suo design Bello bello Bravo Ai tempi era possibile Acquistare il bracciale Acciaio e oro Di questo Hebel Ora però Introvabile Il cinturino sostituisce L'originale blu In pelle di squalo L'attuale È stato fatto artigianalmente Da John Coolstrops Oh addirittura Il processo non è stato facile In quanto il cinturino Presenta al suo interno Delle anime di metallo Che sono state trasferite Da un cinturino all'altro Non con poche difficoltà Ah Queste anime in metallo Presenta inoltre dei fori Per due viti Che permettono l'ancoraggio Del cinturino Direttamente alla cassa Dell'orologio Essendo il cinturino Aftermarket più spesso Ho dovuto far rifare Al tornio Delle nuove viti Più lunghe Così da poter aggiungere La filettatura Presente sulla cassa Il risultato È un cinturino marrone In pelle saffiano Con chiusura deployante E anime in metallo Interne Originali Mamma mia che bello Ha fatto Un orologio da design unico Di un marchio Che sembra essere quasi sparito Dal mercato italiano Da diversi anni Ah Prima di salutarti Volevo lasciare a te E agli amici del canale Una riflessione Usare per lami Gli animali come Coccodrillo Squalo Razza Non è una moda Di cui si potrebbe fare Benissimo o meno Promettendo che non sono Di certo un CEO Del WWF Che il mio animale preferito È la bistecca Penso comunque Che usare un animale Unicamente per il suo pellame Per moda Sia una cosa ormai antiquata E retaggio ormai Del secolo scorso Sento già rumore Dei tastieri Di chi scrive Ema La vacca La pelle di saffiano Quella invece va bene Sì Perché l'animale Viene macellato E ogni suo elemento Viene usato Tra cui anche la pelle Cosa che però Non accade per animali Come le razze Che per quanto Sallevamento etico Mio di etico Ci trovo ben poco Spero che ne possa nascere Una discussione E tanti saluti Ciao Davide E Rock Tanti saluti E Rock Abbiamo il pilota Il pilota di aereo Tanto è interessante Quando mi spiegava Il discorso Che è obbligatorio Un orologio Un segnatempo Anche doppio Nella cabina Nella cabina dell'aereo Finalmente Serve a qualcosa All'orologio A parte Ce li hanno digitali Ne cruscotto Ma a quel punto lì Non c'è nemmeno un GMT Il pilota deve avere GMT Deve sapere il flusorario Vabbè Quanto Era importante Se è importante adesso Quanto era importante Anche una volta Che i calcoli venivano fatti A mente Avere l'orologio nel cruscotto E al pulso Ancora più affidabile Bello grande Visibile Ok Belli Tutti gli orologi Sono belli Tutti i vinteggini Neo vintage Tutti un po' Ripristinati Insomma Tanta roba Mi è piaciuta la collezione Di Don 7 Tutti questi orologi Quello che mi è piaciuto di più E devo dire Ora Il longina Ultronic È anche brutto A me piace A livello collezionistico Però è brutto Vedersi Tra l'altro La placatura Sembrava più della placatura Perché è bella spessa È una placatura Potente Però lasciava vedere Sotto l'acciaio Lo svantaggio Della placatura È quella lì Aveva anche delle striature Sulla cassa Avevano fatto La lavorazione Sulla placatura A striature A spazzolatura Quindi vuol dire Che era bella spessa E Label Label è il mio preferito Tra quelli lì Il 7 te l'ho dato 7 Un bel 7 di voto Te lo meriti Label è il mio preferito E con quel cinturino lì Ci sta proprio bene Non ho nulla da dirti Ha fatto anche un bel lavoro Anche tribolato Come si vuol dire Per farlo sistemare Tutto a posto Poi lì Il primo discorso lì Sulla filosofia Dell'etica Di cosa si deve fare Di cosa non si deve fare Non sta a me Sinceramente Io non Non posso preoccuparmi Di fare campagne Contro questo Contro quell'altro Ma Da quello che so Anche Il pellame Di Degli animali Più esotici Più strani Viene Giunge Sul tavolo Di John Kustrap Perché Si tratta di Pellame Di Animali Già Utilizzati Per altre cose Non è che L'ammazzano Per fare I cinturini Apposta Che sia Poi che se sono Per farci le borse O per fare Non lo so Però Sinceramente Peace and love Ma Anche Me ne tange poco Non posso Mettere a fare La battaglia Ci sono I cinturini Vegani Compratevi I cinturini Vegani Quelli In pelle di mela In fava di noè Quelle robe lì Ci sono Poi alla fine Saranno uguali Ma io Non me lo faccio Sto problema Ragazzi Poi voi fate La discussione Qua sotto Dite un po' Quello che vi pare Che io sono Cinico Freddo E sono disinteressato I problemi del mondo Ma non lo devo salvare Io il mondo Anche basta Prossimo Ciao Davide Ciao Ciao a tutta la community Ben ritrovati No Vi espongo Le vizze Della mia piccola collezione Eravamo rimasti A questo Military Alpine Sistema Ronda Al corzone Ma Il mio amore Per i driver Non è ancora esaurito Bravo Vi presento L'ultimo No Il tazzo Ultimo Quarto Ultimo Arrivato Che è questo Esemplare Di Glicine Un GL069 Combat Sub 42 Bravo Carino Un servizio sv200 Trattino Ci piace Con un Diametro di 42 Dai Carino Si si Fa il suo Te lo appoggio E Visto La mia passione Per i driver Non ho potuto Rinunciare Ad acquistare Questo Squaletto Eccolo lì Bello Anche questo Mi sono portato A armare Quest'estate Bravo Tutti gli altri Anche questo Monta Mozzellita Sv200 Barra 1 Intanto Leggi Andiamo Un'altra cassa Di 40 Legge Legge Anche questo L'ho aggiunto Alla mia collezione Il milanese Imbruttito Eccolo qua L'ultimo Anzi no Il penultimo E' questo Splendido Heberat Scafograf Che anche tu Hai recensito Anche questo Bravo Bravo Un servizio sv200 43 di cassa 30 di profondità 30 cosa C'è la valvola Perlini Così vado a fare Quando faccio Le mie immersioni Spurga Cosa Spurga Che immersioni Spurga Veramente Ottimo Ottima marca Non sai nemmeno Cosa serve La valvola per legge Dai dillo Come ti dicevo Penultimo Perché all'ultimo Non ho potuto rinunciare Anche questo qua Eh Ho cambiato il cinturino Metto questo Nato Stile James Bond Questo Omega Swatch Swatch Veramente bello Bello L'ho comprato Solo Perché comunque E' un secondo polso Questo è il secondo orologio Che compro di secondo polso Ah Perché il prezzo Era veramente eccezionale Un collezionista Mio amico Che Sapendo la mia passione Parlavamo di questi orologi E gli fa Guarda se vuoi Se ne vendo uno Io Che lui Ho comprato quello Con le lancette d'oro Guarda dai Visto i prezzi Che Li vendono A 399 402 Che è Io l'ho portato a casa Con poco più di 100 euro Un scatto Una galanzia E tutto il corredo Che culo E niente dai Tanto che Comunque aspetto il mio sogno Quale? Un Omega Seamaster 300 Seamaster Ho sentito Ho ascoltato i tuoi consigli Prendi la medicina L'ho presa La scinetta E ancora qua Ciao Davide Ciao ragazzi Ciao Te la medicina Cos'era Lo squale Scaffograf di Eberhard Glissing Combat Sud E lo squale Più il Moosewatch 4 orologi Ti do un 8 Perché ha fatto Delle scelte Perfette Che non si addicono Ad un malato di mente Come ti Darebbero tutt'altro Impressione Lascerebbero pensare Che tu sia una persona Equilibrata Cosa che Chiaramente non sei Evidente agli occhi Di tutti Che hai dei problemi Però ci fa piacere Poi guardando anche poi Il resto degli orologi Lì ce n'è Da sbizzarirci C'è anche una bella Collezioncina Tra Christopher Ward Lì Logini Hydroconquest Ce n'hai gli orologi belli Dai Non ti si può dire niente Non ti si può dire niente Ce n'è una marea Bravo 8 ti sei preso Con 3 orologi e mezzo Ti sei preso un bel 8 Più di così Non si può Hai Massima resa Minima spesa Perfetto così Ora basta Con i video Non me li mandare più Ciao Ciao Davide Ciao Amici del canale Un saluto Io da Tenerife Isole Canarie Un abbraccio forte a tutti Sono qui per presentarvi La mia piccola raccolta di orologi Io sono appassionato da tanto tempo Però prima in pratica Avevo degli orologi al quarzo E diciamo non avevo tanta preparazione E non avevo le idee chiare su cosa è un orologio meccanico davvero Un oggetto di valore inestimabile se pensiamo oggi alla tecnologia Tutte le cose Però lasciamo stare questi discorsi Lascia stare Lascia stare Iniziamo con gli orologi di mia moglie Iniziamo con questo Tissot T-Lady Tissot Al quarzo di colore nero Dimensioni davvero ridotte Ma per un polso femminile è delicato È davvero l'ideale Ma certo Credo sia un 31 Addirittura Andiamo poi a fare vedere sempre di mia moglie Questo icon Questo è un 36 di diametro E monta un sellita con 38 ore di riserva di carica È davvero un gioiello Si sente dalle T Andiamo poi a fare vedere i miei orologi Iniziamo con questo Citizen Fugu Fugu Un diver 200 metri Un Aqualand in edizione limitata E credo di presentarlo in anteprima sul canale Davvero un ottimo orologio Un po' vecchio il video Va bene dai Andiamo poi Al Al Certina Di S1 Questo monta un ETA Powermatic 80 E Questo è Himalaya Edition Infatti sul fondello All'immagine dell'Himalaya Che ricorda l'impresa Della scalata Poi andiamo all'ultimo mio acquisto Che è questo Acqua Reser Professional Bello Io che tolgo Io che tolgo 100 metri Questo mi piace Un orologio Su cui non voglio aggiungere altro Perché mi ha semplicemente stregato E ha una qualità eccelsa Eccelsa Bravo Poi andiamo al mio ultimo orologio Per il momento naturalmente Certo Che è questo Icon Crono Bravo Day date E su questo orologio mi soffermo un attimino Perché sono davvero innamorato E' un po' spesso E' pesante Ma è quello che cercavo Quando ho acquistato questo orologio E volevo farmi un regalo Bravo A 48 ore di riserva di carica Monta un sellita Ma ha una qualità costruttiva Davvero Davvero superlativa Certo Bene ragazzi La mia raccolta Per il momento Finisce qui Un abbraccio forte Love Love Bravo Amico Amico Dalla Spagna Lì però Con chiare origine Calabresi Si sente 48 Si sente Si sente Teniamo in considerazione i quattro orologi tuoi I due della signora Lasciamo lì da parte Saranno scelte sue Come si suol dire Vi do un 7 Per quei quattro orologi lì Che hai scelto Perché Non sommato Non ho nulla da ridire L'Acqua Racer Top E' uno di quelli che mi piace Anche se mi piace di più Quello con la griglia Con l'acciaio Però è bello anche questo Varice Lacroix Icon Cronografo Le finiture Della cassa Dei bracciali Sono veramente superlative Ora ti Utilizzi Dei termini Entusiastici Che veramente a volte Uno dice Un po' meno Dai stiamo calmi Invece entusiastici Proprio Innamorato Va bene Ci sta Nulla da dire Sul Sul cronografo Dell'Icon Che ti dice spesso Purtroppo la maggior parte Di cronografi Soffrono di uno spessore Elevato Però È un bello orologio Sicuramente Citizen Fugu E poi il primo Che non mi ricordo cos'era Che ora andiamo subito a vedere Ah il certina DS1 Che è simpatico Sì simpatico Dai 8 Te lo sei meritato Anche per Per la passione Che ci metti 8 Magari un po' altino 8 Vabbè Però ormai sono così Oggi sono di manica larga Dai ti sei preso un 8 Stai zitto e portatelo a casa Complimenti Aspetto un altro videino Su questo tenore qua Tanto Vedrai che ne pigli altri Prossimo video Ciao Davide Ciao Sono Renato D'Alecco Questo è il secondo video Che ti mando Bravo Il primo Era un attimino Concentrato anche Sulla mia collezione Di vintage Eccetera Questo è solo Ed esclusivamente Per farti vedere Gli orologi I diver Che sostanzialmente È la tipologia Di orologio Che al momento Mi interessano di più Va bene Rinnovo i complimenti Per la trasmissione La trasmissione E partiamo subito Allora Il primo Che ti faccio vedere Ah che bello Lo conoscerai Foivos Voyager A Voyager Orologio Veramente spettacolare Oltretutto Col calibro 9000 La miota dentro Veramente bello È bellino Sì Con un cinturino Secondo me Di una qualità Eccezionale È il dial Graffiato Graffiato Un trattamento Che non ha Nulla del plasticoso Ma ti rimanda Una sensazione Di solidità Incredibile Certo È un bello orologino Ci piace Secondo orologio Che volevo farti vedere Conosci bene So che apprezzi Cos'è Glycine Combat Sub Questa è una La referenza GL182 Una delle più carine A mio avviso Sì Cinturino gomma Belle le sfere Non è braccialato L'accostamento Cromatico A mio avviso Uno dei più azzeccati Sobrio Ma al tempo stesso Anche con personalità Puoi vedere Rimanda proprio A un'identità Glycine Specifica A me piace parecchio Un orologio Davvero Bello Portabile E perché no La sua sobrietà Secondo me È la sua Particolarità È un orologio Assolutamente Che non è chiassoso Eh sì Passiamo a un altro pezzo Dai Anche questo Lo conoscerai bene Andiamo in casa ProMaster Ecco fatto Tutto nero Eccolo qua Edizione limitata Mercato Italiano Titanio Dunque Super Titanio Trattamento PVD Canna di fucile La particolarità Quando è uscito Questo modello Che tra l'altro Era secondo me Troppo costoso Per quello che offriva Era Il vetro zaffero Rispetto a Alla serie ProMaster normale Che è un vetro minerale Yes Questo appunto Un limited edition Italy Orologio molto bello Molto leggero Ci si deve fare l'occhio Secondo me Ma il dubbio che mi viene A me quando vedo Queste cose qua PVD nero Titanio Che poi col tempo Magari si sgrosta Come si suol dire Lascia magari Sotto quel chiaro Che dà poi l'idea Di Di Trascuratezza Come vedere Una casa Che non si imbianca mai Che non si intonaca mai Che decade Di trascuratezza Di mancanza di manutenzione Il mio timore È quello lì Che succede una cosa Del genere Che poco ha a che vedere Con l'invecchiamento Dovuto al tempo Di un vintage Che ha altre caratteristiche I graffi belli Il quadrante Che magari Fiorisce La ghiera Che si graffia O che si screpola O che scolorisce Quelle sono cose Che il tempo E sono come Le rughe nelle persone Le rughe nelle persone Sono anche Attraenti Affascinati A un certo punto Lo stesso Negli orologi Ci sono Delle caratteristiche Che con l'invecchiamento Lo rendono affascinante Quando vedo Invece Il scrostato La vernice Che si stacca Magari si sfoglia Quello mi dà Più l'idea Di Disagio Di disagio fisico Perché tanti Amanti dell'acciaio So che un attimino Storco nel naso Col titanio Soprattutto Se Con questo tipo Di trattamento Ho spiegato Ho detto Gli ultimi due acquisti Devil Diver Oh a Bologna Nova Devil Diver Bravo Scelto in questa configurazione Dunque Cinturino Gomma Fatto bene E Dai All'arancio All'arancio Molto forte Diverso comunque Dall'arancio Doxa Questo è molto più carico Un cinturino Comodissimo Molto più fluorescente Quasi Veramente Veramente comodo Secondo me Un quadrante Spettacolare Perché Quei bicchierini Belli Che poi rimanda Comunque a Se vogliamo dire Usare un termine Un po' scontato Un'iconicità Bravo Tanti contestavano La scritta Sai I tratti Sono È bello così I tratti delle singole lettere Sono Comunque congiunti È fatto apposto Si è capito Dopo studiando Che sono appositamente Stati fatti così Certo Guarda se si sbagliano Bell'orologio Bel pezzo Molto molto portabile A cassa Particolare O piace o non piace A me piace molto E a tiro al polso Risulta anche comodissima Ultimo ma non ultimo Un acquisto Che so che è rititubante E io te lo consiglio Caldamente Ah Marine Master Dial Blue Pro Master Profondo Molto bello Allora Guarda In questo Questo orologio Ho fatto Praticamente Uno Stress test Indossandolo Tre mesi Ininterrottamente In tutte le situazioni Bravo Fatto salvo La notte Quando andavo a dormire Bravo Devo dirti Che vale Ogni singolo centesimo Che costa Ah lo so Il bracciale Come già detto Da altri amici del canale Non c'entra nulla Con le serie precedenti Di una qualità Assolutamente superiore Una luminosità fotonica Incredibile Perché guarda Credimi Credimi Questo verde acidulo Degli induci Che all'inizio Quando tu lo vedi Può far storciare un po' il naso E dici Ma cacchio è un po' strambo A me piace Sul blu Si azzecca tantissimo Così come sul nero E ti rimanda Una luminosità La sera Che è veramente Impressionante Il bulove è luminoso Il devil diver Ma questo è due volte di più Io Se sei ancora nel dubbio Se prenderlo meno O se la scimmia Se la scimmia Se è saziata Gli è passata L'idea Guarda Te lo consiglio Oltretutto Il vetro minerale È da tanti contestato È protetto Perché risulta Molto più basso Della ghiera Dunque ti dico Io che l'ho usato Ininterrottamente Tre mesi Vieno fatte Lioni Acqua Bicicletta In giro coi cani Lavori di casa Eccetera Non ha un segno Che è uno Sul Sul vetro Qualche segnetto Qualche segno di battaglia Ce l'ha Comunque Sul resto dell'orologio Però guarda Se sei ancora nel dubbio Io te lo consiglio Oltretutto In tantissimi Alla fine poi ho preso L'Orient Mac 2 Quello da 40 mm Ce l'ho lì Ce l'ho lì pronto Per l'estate Non lo sto nemmeno indossando Adesso Perché lo tengo da parte Apposta Per le situazioni No Le battaglie con la sabbia Quelle lì Che rischiano di fare Che poi ce li porto Tutti al mare A gira e rigira Ce li porto Forse sto qua Non ce lo porterò Però Più o meno Tutti ce li porto Anche il Seamaster Di Omega Ce lo porto Poi Vabbè Questo qua Lo volevo arancione Io più che blu Sono ancora un tempo Sì Adesso Vediamo Di arancione Mi mandano Mi mandano L'officina tecnica Aquas Quindi Mi tolgo lo sfizio Dell'arancione Quello di bello Quello di 99.000 Bello Vediamo Han detto Vabbè Ma se hai Comunque Il Pro Master Serie vecchia Non ha senso Ha senso Sì Sono due orologi Completamente diversi Sono due orologi Che coesistono Benissimo In collezione Tutto diverso La tipologia La tipologia d'acciaio Il trattamento Comunque spazzolato Di questo Marine È incredibile Secondo me Qua Han fatto Veramente La mossa Gabba Gabba Bello 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 Guarda Dei mie Dei miei vecchi Vintage L'unico Che ti faccio vedere Dai Ti faccio rivedere Scafograf 1971 Automatico Questo per dire Che anche allora Gli orologi Tecnici Specifici Diver Avevano Comunque Una loro dimensione Questo è tutto Spero di essere stato Abbastanza breve Esaustivo E di non averti scocciato Se vuoi Una panoramica veloce Ancora Però Ti allargare Di veglia Di varie orologine Vecchie Ti auguro Di bene A presto A presto Love Ciao caro amico mio Begli orologini Che ti sei preso Un paio di siti Marine E' più bello Il marine Che il pro master Vecchio Diciamo la verità Diciamo Con quegli indici Belli quadrati Squadrati Poi il verdino Che dici te Che piace o non piace Mi piace sinceramente Quando vedo Si chiama Natural light Il pigmento luminescente Di casa citizen Si chiama Natural light Quando vedo Natural light Di quel colore Lì mi piace Mi piace il verdino E non Non lo so Se è così luminescente Ora mi metti La voglia di provarlo Di metterlo Anzi Ora mi viene in mente L'amico Giacomo Della gioielleria Pasquale Domenici Lui è concessionario citizen Potrei farmelo Mettere a disposizione E fare la prova E' tutto lì Vabbè io ti do un 7 Per gli orologini Che hai Un bel 7 Tondo Te lo meriti Sono tutti scelti Con cognizione di causa Bello anche Il glycine Così come è bello Il foibos Sono belli orologi Inutile da dire 4 nuovi acquisti Albulova Albulova Oceanographer Arancione Tanta roba Anche quello lì Si il 7 Tutto meritato Dai Bravo Bravo amico mio Se hai passato l'esame Prossimo video Ciao Davide Ciao Riccardo Riccardo Roma Faccio vedere la mia collezione Eh certo Inizio da due orologi Che ho comprato Per cimentarmi un po' Nell'apprendimento Dell'arte Dell'orologeria Sono un Bon Mercier Degli anni 40 E un Doxa Che bella immagine Del 1955 È mia intenzione Imparare A metterci un po' Le mani sopra Revisionarli Sia meccanicamente Che esteticamente Ti farò vedere In futuro Come saranno venuti Sì Io capisco Comprendo È la voglia Di mettere le mani Dentro All'interno Dell'orologio È tanta Anche a me Mi verrebbe voglia Di farlo Anche perché Quelle poche volte Che apano un orologio O che pulisco Che sistemo No Cambio l'ansa E riesco A vedere Che c'è già Un miglioramento Anche solamente Aver lavato Il bracciale Nella lavatrice Ultrasuone Cambiato La spring bar Dato una pulita No La soddisfazione Di vederlo pulito È tanta Figurati un po' Se uno riuscisse A smontare Tutto Il calibro Rimontasselo Tutto Oliato Perfetto Pulito Funzionante Il vetro Tra 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 Sare il massimo Della soddisfazione Anche è vero Che se uno lo fa Poi ci si deve Mettere seriamente Non è che Ti puoi mettere A fare le cose A metà Cioè Quel tempo Portare avanti Tutto è impossibile Anche perché Non è necessario Per essere appassionati Di orologi Essere dei Saper revisionare Un orologio È un po' come Nelle auto Chi fa le recensioni Delle automobili Chi garba Le automobili Non necessariamente È un meccanico Che sa metterci Le mani dentro O addirittura È un ingegnere Che sa progettarlo Ci sono vari livelli È logico Che uno Che è appassionato Di auto Deve sapere Per lo meno A grandi linee Come funziona Un motore Cioè Quando premo La frizione Cosa sta succedendo Nel motore Quando schiaccio L'acceleratore Cosa sta succedendo Nel motore A grandi linee Poi nessuno ti Smontamelo Rimontamelo Il motore Eh no Poi anche lì La passione Ti può prendere Dal lato sportivo Quindi sai Tutte le macchine Sportive O dal lato Auto d'epoca O addirittura Ci sono i fuoristrada Gli offroad Ci sono finti A refiere Quindi Non si può sapere Tutto Di tutti E qui Nel campo Degli orologi Niente Degli orologi È lavoro Cioè Bisogna anche un po' Cioè In ogni situazione C'è Il bello E il brutto No Te ci vuoi mettere Le mani dentro Ti auguro Tutto il bene Di questo Di questo mondo E Fammi sapere Se poi sei riuscito A tirare Fuori Il ragno Del buco No Oppure hai fatto Un buco Nell'acqua Ah 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 Bucco Tutto un buco Come diceva Cicciolina Siamo bene Partiamo subito Dall'orologio A cui Sono Più affezionato Questo Eberhard Crono Top Extraforte Eber Del 1930 Un po' bianchino Da mia nonna A mio nonno Quando si fidanzarono E quindi E il treno L'ho indossato io Quando mi sono sposato Quindi È sicuramente Un qualcosa Che vorrò sempre avere E tramandare Spero Se vorrà A mio figlio Ma il quadrante originale Bianco così Possibile Che non si sia in giallino Almeno Tre Centodieci anni Un alloggio Che indosso Più spesso Recentemente Black Bay Un Tudor Heritage Black Bay Con l'Eta Eta 28-24 Colore blu Con un bracciale Jubilee Un alloggio sportivo Molto carino Si abbina Più o meno Con tutto Ma Di quelli vecchi Con l'Eta 28-24 Questo Boh Sempre Rimanendo nel mondo Rolex Tudor Questo è Un GMT 16-700 Il cosiddetto Pepsi Può piacere La combinazione Di colore Però Sicuramente Un orologio Iconico Bello Bello Omega Speedmaster Moonwatch Che ho usato Tantissimo Nella mia vita E ho fatto Poi Revisionare In Omega E quando me l'hanno ridato Onestamente Sembrava Nuovo Quindi Ovviamente Sono lavori Che costano parecchio Ma Il risultato Era veramente ottimo E quindi Me lo posso godere Per altri Vent'anni Boh Senti Ehi Un po' prima Sempre Crono Oh il primero Zenit E il primero Rainbow Insieme allo Speedmaster Al Tagore Monaco E al Daidona Probabilmente Uno dei cronografi Più iconici Della storia Che anni sarà? 2000 Anni 2000 Con il movimento Zenit 400 2002 2003 Che sul Daidona Proprio perdeva La funzione della data Ma per il resto È Uguale Identico Ti faccio vedere Poi L'ultimo Orologio Che Ho acquistato C'è proprio un cronomate Dai un cronomate Non ce l'hai Che è un Odemartiche 14 790 Un orologio Secondo me Bellissimo 36 mm Peso giusto Dimensione giusta Forse L'orologio Più iconico Disegnato Da Geragenta Spero che ti sia piaciuta La mia collezione Un grandissimo saluto A te E a tutti gli amici Del canale Ciao Ciao amici del canale Cavoli Che orologino L'ultimo Odemart Piguet Royal Oak Purtroppo Ha un po' perso L'appeal Per me Questo Royal Oak Perché Non se ne può più Di vedere Orologi con bracciale integrato Da brands affermati A brands meno affermati Da brands storici Brands emergenti Micro brands Brands Bruns Tutti fanno Un orologio con bracciale integrato E con le stesse similitudini E a me vanno un po' stufatino Chiaro che quando li vedo Bello Anche quando vedo quelli dei micro brand Fatti con bracciale integrato E' bello Cioè è bello Però da lì a dire Wow Lo devo avere a tutti i costi No Anche questo qua Una volta mi piaceva molto di più di adesso Devo dire la verità Una volta Ci avrei tirato Maggiormente Adesso con quella cifra lì Andrei a cercare qualcosa di meno Oddio Se Un Bacheron Constantin 2.2.2 Lo prenderei Eppure c'è bracciale integrato Però è tutta un'altra roba di finezza Però va bene Da 8 ti do Tutti i orologi con la O maiuscola Dai vintegini Poi vuoi iniziare Ecco ora Ora che ci penso Quello che mi piace è che Pur avendo questi orologi qua Di prestigio Costosoni Da sborone Da Metterti così E passare tutta la giornata così A fare la spesa col carrello La fai così Per farti vedere Di la verità In realtà Sei Talmente appassionato Da voler smontare gli orologi E iniziare a metterci mano dentro Oh Questo mi solleva Come dire Sei davvero appassionato Al cento per cento Cioè Vuoi andare a raggiungere Dei punti Che io ad esempio Non riesco a raggiungere Andare a mettere le mani Dentro l'orologio E che Sinceramente Non lo fa Al momento Non sono interessato Poi magari un giorno Quando avrò 80 anni Mi vedrà 80 anni Vabbè Speriamo di salute 80 anni Inizio a smontare gli orologi Nella vita Bisogna reinventarsi E prima o poi Ma per piacere proprio Cioè Imparare Studiare Guardare Brigare Sto straparlando Mi rendo conto Che sto iniziando A straparlare Quindi È giunto il momento Del relax E come si fa A rilassarsi Nel 2024 Si va Su Instagram E si guardano I video Dei gattini Quello lì È un sistema Per rilassarsi Che è al cento per cento Garantito Quindi io devo andare Vado E vi ricordo Gli appuntamenti fisici Che come sempre sono Quando voglio io Il più spesso possibile Qui su YouTube Love Gli appuntamenti fisici Di